Incidente questa mattina sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un camion che proveniva da Fratte, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe terminato fuoristrada sul raccordo Salerno-Avellino. Due le persone ferite, soccorse dal Vopi e condotte in ospedale. Sul posto è prontamente giunta la polizia stradale che ha svolto i rilievi del caso e provveduto a far defluire il traffico lungo il tratto autostradale.